Diciamo da adulto scherzi non ne ho fatti più, ma da bambino ne architettavo parecchi, io telefonavo spesso a uno del secondo piano dicendomi che io stavo al terzo piano e lui mi buttava l'acqua sui panni, aveva più di 80 anni, non aveva capito che non era possibile, poi c'era uno, poi c'era un periodo che giravo tutto il quartiere e mi fermavo da quelli con le facce più strane perché io mi innamoravo delle facce e io dicevo se vedi a Nino, oddio che sto giù al gambetto, e tutti dicevano il coraggio, va bene. E che durata è durata, io per anni sono andato avanti così, vedi a Nino, io che sto giù al gambetto, va bene, però non avevo mai capito se dicendomi va bene erano loro che piavano per culo a me o io, allora l'ho smesso, facevo questi scherzi qua, ogni tanto ritrovavo qualche cane, telefonavo perché quelli che smarivano i cani, pronto signora ho trovato il cane, ah, c'era una malattuta, me lo faccio sentire, ah, c'è il cane. Grazie.